Ciao gentaglia, sono ShootHateYou, questo è Breaking Italy, lo show che viene andata da lunedì Al venerdì, nel quale parliamo di cosa succede nel mondo La prima cosa che dobbiamo assolutamente tirare sul tavolo oggi è una notizia relativa a internet Ma che mette le radici in un campo molto più antico Visto che parliamo della vendita illegale di sostanze stupefacenti Di nuovo, e dico sostanze stupefacenti, per non dire droghe Così da confondere voi giovinastri in modo che mi invitiate alle feste E tutti beviamo nei bicchieri rossi, quelli da festa americana Nelle quali succedono cose, la gente si accoppia Mentre qualcun altro si lancia dal secondo piano nella piscina con lo scooter Io starò mangiando tutte le pizzette, tutti i dolci Prima che qualcun altro possa dire Ehi, ma quello lì ha 30 anni, cosa ci fa tra noi giovinastri pazzi con lo skateboard? Io me ne sarò andato, sarò scomparso, nessuno mi avrà visto, nessuno mi avrà notato Come se fossi Dracula, o la candida Il punto è che secondo il National Drug and Alcohol Research Center Che è una roba che si occupa di monitorare in Australia La vendita online di stupefacenti La chiusura di Silk Road è avvenuta in ottobre Sicuramente ve ne ricorderete, ma se non ve ne ricordaste Silk Road era il più grande ed utilizzato sito internet per lo smercio di cose E appunto a ottobre è stato chiuso E' arrivato Bill e ha detto Questo metterà fine al commercio di sostanze illegali sull'internet E tutti ovviamente hanno risposto Ah 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 Billy Infatti la cosa, secondo questo istituto, avrebbe creato un gigantesco buco nel mercato Perché manca il fornitore Ma c'è ancora un sacco di domanda Conseguentemente, avete visto Breaking Bad? Esattamente Se ne va un fornitore, arriva un altro fornitore E' così che funziona E' in questo caso qualcosa più o meno come il doppio dei fornitori Nella sola Australia, infatti, dalla chiusura a ottobre di Silk Road Le persone che utilizzano il servizio per spedire cose Era doppiato E tutti i siti che prima avevano molto meno traffico Ora ne hanno molto di più E ne sono spuntati fuori altri Come? Sono spuntati fuori altri nuovi clienti Perché sempre di più le persone preferiscono affidarsi a questo sistema Che prevede la navigazione anonima E l'invio a casa tua di un pacchetto tramite le poste O tramite corriere Ma immagino sia tramite le poste Con all'interno le cose E segnatevi queste parole perché vi assicuro che saranno vere E si continuerà a parlare di questo fenomeno negli anni Perché questo sistema, quando sarà affermato in scala un pochino più grande Non solo sarà incontrollabile Ma se ne parlerà anche in quanto fenomeno di costume Perché è molto diversa la percezione che tutte le persone hanno Rispetto ad un certo tipo di mondo Se per avere a che fare con questo mondo Devi scendere in una piazza buia Parlare con un tipo losco E tendenzialmente affrontare un minimo di rischio Dipendentemente da che cosa stai facendo, cosa stai comprando e da chi lo stai comprando Rispetto al saltare la precedente tilitera E in pigiama o in mutande, dipendentemente dal tempo Ordinare tutto tranquillamente da casa E non aver per niente a che fare con quel mondo intermedio Che è ovviamente per tanti un casino dissuasivo Comunque vedrete che ne parleremo di nuovo Parlando invece d'altro adesso e non nel futuro Un consorzio di ricerca dove spiccano peraltro un sacco di ricercatori Un sacco di centri di ricerca italiani Che è un grande vanto Avrebbe individuato dopo vari studi eseguiti su tante persone malate Di sclerosi laterale amiotrofica Un gene che probabilmente in futuro potrebbe permettere Una cura per questa terribile malattia neurodegenerativa Ora, la cura non è arrivata Nel senso che quello che si è riusciti a fare Che è comunque tanto È stato individuare un gene Quando questo gene non funziona bene Quando è difettoso Si ha l'insorgenza della malattia La scoperta è così importante Che si è guadagnata la prima pagina del Nature Neuroscience Vi lascio in descrizione qualche articolo Che dice un bel po' di più di quello che vi ho lanciato in faccia adesso Non mi sembrava comunque il caso di citare la cosa Perché ho l'impressione che su internet si parli soltanto di scienza Nel momento nel quale non si sta parlando di scienza Ma di pseudoscienza Oppure se ne sta parlando male Ed è il caso ogni tanto di sottolineare il fatto Che nonostante tutto i ricercatori lavorano E lavorano bene E fanno cose Migliorano delle vite E salvano delle vite Continuando a parlare d'Italia Invece devo dare uno schiaffettino all'Italia Tutta l'Italia O comunque a buona parte dell'Italia Che è impermeabile al cambiamento E sarebbe facile per me prendermela con l'Italia Senza prendermela con gli italiani Che sono veramente quelli Che rendono il cambiamento impossibile E no Billy Non sto parlando dei politici Parlo di tutti gli italiani Di italiani normali Che non fanno nient'altro che fare tifoseria E lamentarsi Queste sono le due principali attività italiane Se potessimo generare pilda Queste due cose Boom Saremmo lo stato più ricco del mondo Ma non è così Quindi Sapete cos'è un gioco di ruolo? Un gioco di ruolo è quando Io mi passo da cavaliere Tutti vesti da fata E nel momento nel quale ci incontriamo Io mi devo comportare Come se fossi un cavaliere E tu come se fossi una fata Il che soltanto in alcuni casi Successivamente Può portare A un rapporto sessuale Ma normalmente Non è così Almeno credo Questo è quello che mi hanno detto Tutte le ragazze vestite da fata Che ho incontrato nella mia vita Gioco di ruolo Significa gioco delle parti Il che significa Che ognuno deve sapere Quale è la sua parte E la interpreta Sempre E comunque Ed è più o meno La stessa cosa Che accade in politica Ora La mia richiesta È Non cadete nel gioco delle parti Perché Il gioco delle parti È quando la maggioranza di governo Decide di fare qualche cosa È l'opposizione Anche se Normalmente Sarebbe d'accordo Con quella cosa Fa ostruzionismo E dice no E perché dice no? Perché deve fare opposizione Questo è il gioco delle parti Il governo Governo E l'opposizione Cerca di non farlo governare E questo Spesso è A prescindere dai contenuti A prescindere dalle leggi A prescindere da dove si vuole arrivare A prescindere da come ci si vuole arrivare E Non dico questo perché sto per dire Che Oh mio dio Si sta parlando Dell'abolizione del senato E shooter Vuole fare propaganda No Tendenzialmente no Perché tanto Né io né tu Abbiamo alcun potere Di decidere Se l'abolizione del senato Avverrà E benché io sia d'accordo Anzi desidero fortemente Che il senato si trasformi E per chi non sapesse Di cosa stiamo parlando Il governo Precisamente nella persona Di Matteo Renzi Che ci ha fatto la campagna elettorale Su questa cosa Ha detto più volte E oggi dovrebbe annunciarlo Anzi nel momento Nel quale sto parlando Probabilmente Se ne starà parlando Molto di più La trasformazione del senato In camera delle autonomie Il che significa Togliere del potere al senato Dargli dei poteri diversi E quindi escluderlo Dall'attività parlamentare Il che semplificherebbe Sicuramente Il processo di approvazione Delle leggi Perché le leggi Non dovrebbero più rimbalzare Tra camera e senato Ma dovrebbero semplicemente Essere discusse in parlamento E un modello Che altri paesi hanno Non è assolutamente Una dittatura Come si sta dicendo Comunque ci sono persone d'accordo E persone non d'accordo Tra le quali anche personaggi Molto autonevoli Come Zagrebeschi E Rodotà Quindi dove voglio andare a parare Ci sono dei forti Ostruzionismi Affinché questa modifica Nel senato non avvenga E ho espresso con un tweet La mia frustrazione Perché credo che Sia il caso Sia di alleggerire La macchina dello stato Sia di mandare a casa Un po' di gente Perché in senato C'è tanta gente Che effettivamente Potrebbe tranquillamente Allontanarsi Che ne so Vai a nord Prendi il nero Vai a combattere gli estranei O gli esterni Gli estranei Ma il punto è che Mi sono arrivati millemila Messaggi privati Al secondo Di un sacco di persone Arrabbiate Tante di queste persone Facevano riferimento A dei partiti Particolari In quale gioco delle parti In questo momento Vestiti da fatina O vestiti da cavaliere E remare Contro questa decisione Che peraltro Essendo una riforma Costituzionale Deve essere approvata Non solo dalla maggioranza Ma da due terzi Del parlamento Quindi quanto Può fare figo Andare contro questa decisione Che per inciso È anticasta È antisprechi Far risparmiare È antigenotocratica Insomma Cosa che dovrebbero piacere A tanti Conseguentemente Se possiamo Da un lato O dall'altro A prescindere dall'appartenenza Politica Cerchiamo di mantenere Una posizione Il più possibile Laica Rispetto alla politica Perché Una delle grandi problematiche Che secondo me Abbiamo avuto in Italia È stato un totale Immobilismo Delle posizioni Politiche Dovuto al fatto Che quello che facciamo noi È sempre figo Quello che fanno gli altri È sempre brutto Quindi non si può mai fare niente Quindi non si fa mai niente Ci teniamo i nostri voti E yeee Continuiamo a non fare niente Detto ciò I love you long time Anche se Per fortificare Le vostre posizioni Mi mandate dei link Che rimandano a siti Che appartengono A un partito All'altro Questa cosa è assolutamente Insensata Se dovete argomentare qualcosa Fatelo con le vostre argomentazioni Altrimenti Non lo state argomentando State solo Spedendo dei link È una cosa che What? Ma questo gentaglia È tutto quello Che ho avuto a dirvi per oggi Grazie per aver guardato Grazie a Valerio Che ci manda questa foto Dal carnevale di Viareggio Sì Ci vuole un po' Per finire su Breaking Italy Le foto sono tante Quindi Voi mandatele Prima o poi Se vi siete comportati bene Se avete fatto i vostri compiti E se avete mangiato le verdure Finirete su Breaking Italy Quindi Fate i bravi Fatemi sapere nei commenti Cosa ne pensate delle notizie di oggi E ci vediamo domani Alle 18